Buongiorno, sono Greco Alina, la mamma dei due bambini, uno all'elementare e un'altra alle medie. Avevo bisogno per accedere all'Axios Scuola Digitale. Come ho avuto dei problemi per mandare un'adesione al piccolo per un'uscita, sono andata in segreteria, ho preso un appuntamento con il ragazzo Lorenzo e oggi sono venuta a risolvere la questione. Mi sono trovata bene, speriamo adesso che funzioni. Grazie mille per tutto.